Questa immagine è l'emblema del fallimento della città metropolitana. Vedere dei cittadini che tentano di assolvere alla meno peggio zappa e olio di gomito, quello che dovrebbero fare tecnici operai dell'ente che è venuta a sostituire la provincia di Reggio Calabria, è il segnale che qualcosa non va. Non va proprio, siamo lungo una delle tante strade provinciali che intersagano la piana di Gioia Tauro. In questo caso è l'ASP che unisce Taurianova a Rizziconi e Rosarno, dove lo stato dell'arteria è pessimo se non tragico. Non sono più le buche a farle da padrona, ma dei veri e propri crateri dal diametro indecoroso. In alcuni tratti, dove non esistono più i margini con i consueti canali di scolo delle acque piovane, la strada si è trasformata in una sorta di piccola parigida car. Sabbia e Terriccio hanno preso il sopravvento al manto stradale trasportati dalle copiose piogge torrenziali delle scorse settimane. E in questo caso due professionisti, per evitare ulteriori danni alle loro autovetture e a quelle dei loro clienti, sono stati costretti a rimboccarsi le maniche e fare quello che la latitante città metropolitana dovrebbe fare. Le denunce sono state aggiosa, ma nulla si è mosso. Disperati e arrabbiati, i cittadini del posto, ovvero le tante famiglie che vivono lungo la strada, minacciano anche di occuparla, bloccando il traffico. Io con mia moglie stamattina abbiamo pensato di venire proprio con la zappa e cercare di almeno aggiustare quel poco che si può aggiustare per poter passare. Il nostro primo pensiero stamattina era vale la pena, tocca a noi, non tocca a noi, però poi alla fine ci rendiamo conto che siamo noi quelli che tutti i giorni usufriscono di questa strada, quattro volte al giorno, siamo noi che andiamo dal gommista, un giorno sì e l'altro no. Ci siamo ritrovati qui con la zappa, che è quello che abbiamo, per cercare di ripristinare un minimo, perché con questi attrezzi non si risolve il problema. Non le nascondo che anche per tutelarci da un punto di vista dell'immagine abbiamo chiesto ai nostri clienti di incontrarci in posti diversi da questo, proprio per non farli venire e vedere la situazione in cui versano le strade, che non è colpa nostra, perché siamo circondati da questo abbandono, da questo sfagiolo totale. E' proprio per non fare noi la figura, la brutta figura. Quindi come vede è mortificante, è mortificante sia dal punto di vista professionale che proprio come persone. Abbiamo naturalmente chiamato quelli che per noi sono i comuni limitrofi, quindi il comune di Torianova e il comune di Rizziconi, che hanno entrambi scaricato la questione sulla provincia e città metropolitana. Ma poi abbiamo proseguito con i nostri contatti con gli uffici che loro ritenevano competenti e siamo arrivati alla situazione che neanche ci rispondevano al telefono. Guardi, in tutta sincerità abbiamo contattato i carabinieri denunciando che l'ufficio competente non c'era nessuno che rispondesse al telefono, ma non è successo proprio niente.